Storie di briganti in musica con Tutto Cambia, il tour che ha portato Teresa De Sio in giro per l'Italia per raccontare quel particolare periodo storico tutto meridionale che è il brigantaggio e queste storie hanno preso vita al Modo Jazz Club di Via Bandiera a Salerno. Grazie a tutti. Guarda per me il brigantaggio è un fatto di oggi, i briganti che mi interessano sono i briganti di oggi, quelli della storia, della storia del nostro risorgimento sono figure importantissime e le donne, le brigantesse sono state importantissime. Grandi figure di brigantesse abbiamo noi da riscoprire, però quello che a me interessa del brigantaggio è il sano brigantaggio intellettuale che oggi tutti quanti possono portare avanti e le donne sicuramente in prima linea. In scaletta non sono mancati gli omaggi come una tutta a Domenico Modugno con una non famosissima canzone e poi Creusa de Ma, riscritta interamente in napoletano da Teresa De Sio, l'omaggio a Fabrizio De Andrini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.